Mi sono risentita con Corrado, il mio ex. Corrado? Ci tiene ancora molto a me. Hai detto che non l'amavi più, ma è soltanto me. Quando non c'era la crisi. Non so perché, ma c'è sempre qualcosa che non funziona. Sarà colpa loro, sarà colpa mia. Questa non è la solita crisi. Giulia, ti presento un amico. Marco Ferretti, ufficio marketing di Londra. Gabriella. Sara. Francesca Perardi. Questa volta bisogna riscrivere le regole. Non sai cosa sei tu? Un grandissimo bastardo. Quel posto era mio, me l'era meritato. Oddio, il volo. Il meridionale, sangue caldo. C'ho pure la pistola. Ma come la pistola? Adesso si farà tutte e due, me lo sai. Tu sei qui con tua moglie e io sono qui con il mio nuovo fidanzato. Oddio. Quattro donne e un uomo. No, 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 questo non è un telefilm americano, dai. Ce la fate? Ce la faccio. Situazione complicata. Se uno va d'accordo a letto sul lavoro non ci saranno problemi. Molto complicata. Ho lasciato Nicola. E adesso dove vai a stare? Qui da te. Qui? Decisamente troppo complicata. Non puoi lasciarmi stanotte? No. A novembre. Guardi, io non ho proprio fidanzate. Però va a letto con la mia. Warner Bros. Pictures vi invita a conoscere... Ma mi avete preso per deficiente! ...l'uomo che tutte vorrebbero incontrare. Io dovrei trovare uno come te. O nessuno ti si piglia o tu non ti vuoi pigliare nessuno. È un po' più complicata di così. Ti presento un amico. Dal 12 novembre al cinema. Ciao, ciao. I won't